Ciao ragazzi, ben ritrovati dal vostro Just Energy Oggi ragazzi vedremo lo shop giornaliero di Fortnite Vediamo cosa hanno droppato Uh, il nuovo bundle Ora vediamo tutto cos'è nel dettaglio Ok, perfetto Vediamo, il bundle della paura Andavamo detto ieri che usciva questo bundle Molto interessante questo design con la mano Cioè, in game sarebbe un po' troppo ingrombrante Però ragazzi la skin è fantastica 1600 V-Bucks per tutti il bundle Bella, anche questa mi piace di più per dire Le alzate di sguardo sinistro schioccano in un'azione Ma c'è questo che fa? Anche questo, ok Poi c'è qua il piccone, senti il rumore Vediamo l'altro Qua c'è una wrap che viene in tutto 1200 V-Bucks Questa è la prima volta che faccio un video dello shop giornaliero Ah ecco, qui sono anche le skin singolarmente Mi sa che mi shopperò questo domani Tormento Immortale Vediamo Poi qua c'è il bundle Arena Rapido è tornato Bellumano Il deviatano è tornato pure Skin di season della stagione 3 di Fortnite UFO Poi abbiamo il ball extraterrestre Anche lui 500 V-Bucks Carino Picconi Amici gelati Questo già lo sapete Uh, senti il flusso ancora È rimasto Soltanto per pochi secondi ragazzi Perché poi c'è il problema del copyright Su core per i 138 Sagan costa 800 1.500 Few 200 Poi vabbè è rimasta sempre la stessa skin Ecco scheletrata Ok Ed è tutto ragazzi per questo shop di oggi Spero che questo video vi sia piaciuto Se fosse così mi raccomando Pollice in su Commentate Condividete Se siete iscritti Iscrivetevi E noi Ci vediamo ad un prossimo video E ciao ragazzi